Buon abitacolo ancora in difficoltà per l'emergenza idrica. Questa mattina il sindaco Giancarlo Guercio ha scritto al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e ai consiglieri regionali Matera e Pellegrino per evidenziare lo stato di emergenza e criticità causato dal cattivo funzionamento delle condutture della rete idrica. Ho accuratamente richiesto, ha detto Guercio, di prendere in considerazione il progetto presentato nel marzo 2018 relativo al rifacimento di tutta la rete idrica, un progetto realmente importante e utile. Con la sua approvazione e il suo finanziamento, infatti, molti dei problemi riscontrati negli anni sarebbero definitivamente risolti. Non è infatti la prima volta che Buon abitacolo lotta contro queste difficoltà di approvvigionamento. Questa volta, a distanza di quasi una settimana dall'inizio della crisi idrica, ancora non si è venuto a capo del problema. Pare sempre più chiaro che si abbia a che fare con un'ostruzione che impedisce l'afflusso dell'acqua da Montesano Scalo verso Buon abitacolo, secondo il suo solito percorso. Da capire in che punto ci sia questo blocco e anche di che natura sia, se si tratti cioè di una bolla d'aria o di qualcosa di concreto che impedisce il passaggio dell'acqua. Tutti i numerosi tecnici chiamati a intervenire non sono riusciti ancora a venire a capo del tutto della vicenda. L'acqua continua a non avere una pressione tale da raggiungere le abitazioni e le erogazioni sono dunque a singhiozzo. Questa mattina si è ancora lavorato per svuotare la condotta per poi riattivare gradualmente il gettito e vedere se la situazione migliora. Intanto le scuole sono rimaste chiuse anche sabato e i cittadini cercano di alleviare i disagi, attingendo alle autobotti messe a disposizione.